Ciao a tutti, premessa. Se pensate che io stia facendo una recensione negativa solo per le visualizzazioni, mettete pure, non mi piace senza guardare il video. È difficile cominciare perché c'è lo stesso imbarazzo di chi raccoglie la cacca del proprio cane per la prima volta. E ok, c'è il sacchetto di mezzo, però è sempre con gli escrementi che si ha a che fare. Ti senti osservato e puoi comunque percepire quel calore è spiacevole. Non ho un cane, né ne ho mai avuto uno, né ho dovuto mai raccogliere delle feci, però penso che averlo fatto mi avrebbe preparato a questo momento. Ok, fare o non fare, non c'è provare. Quello che fatico a comprendere è che persino coloro ai quali è piaciuto ammettono che la trama è debole. Ma la trama non è proprio la base di un buon film? Altrimenti non si parla di film ma solo di una serie di immagini in sequenza. Per carità, belle immagini per le quali hanno speso una barca di soldi, ma dov'è la sostanza? Citazioni a ruota e il riciclo di espedienti narrativi dalla saga originale dall'inizio alla fine e basta. Per favore, non venite a dirmi cosa del tipo è la ciclicità della forza perché appunto c'è differenza tra ciclo e riciclo. Non c'è bisogno di un film di due ore per farmi capire che la storia dell'universo tende a ripetersi. Perché non esiste nessuna motivazione valida per infilare una terza morte nera, la terza. Non è che se le fai il lifting se la chiami in un altro modo e se rendi i personaggi coscienti della povertà di idee combattutine della serie. Eh eh, questa missione mi ricorda qualcosa. Allora smette di essere autismo e diventa tutto ironico, brillante e nostalgico. Al massimo diventa una presa in giro. Non sappiamo che fare, ma contiamo sul fatto che i nostri spettatori abbiano una perenne reazione per tutte le citazioni superfluo che abbiamo infilato. E poi BB-8 è adorabile. R2-D2 che all'improvviso si riattiva e dà la mappa per ritrovare Luke in una delle scene più telefonate di sempre non è genialità ma pigrizia. E non voglio rifare il solito discorso, capisco che per pellicole di questo calibro vadano molto cauti perché investono milioni ma è davvero troppo poco. Non può limitarsi ad essere uno spot pubblicitario di action figures e giocattoli. È come se si fossero ogni volta fermati alla prima idea e che nei rari dubbi si siano limitati a copiare spudoratamente dal materiale preesistente. È preciso visto che non l'ho ancora fatto, che non sono un fan svegatato della saga e quindi non avevo particolari aspettative. Sapevo sarebbe stato un film leggero, di avventura e ho cercato di godermelo per quello che è, o perlomeno che doveva essere. Gente che si mena con le spade che luccicano. Ero pronto ad un paio di infantilate alla Disney, quelle battute godibili infilate anche nei film di supereroi. Non ero però pronto a due ore di battute deficienti, facce buffe, versi e slapstick comedy di infimo livello come la scena in cui Finn viene catturato dal mostro tentacolare sul Millennium Falcon. Mi ha ricordato Scary Movie 2 quando la pianta di marijuana gigante fuma il nero. Solo non è altrettanto memorabile. Ma passiamo ai personaggi, partendo dalle facce conosciute. Han Solo, lei e Chubekka sono l'ombra di loro stessi. Sembrano già pronti per essere inscatolati e venduti come pupazzi. Vi sfido senza controllare a ricordare anche solo una scena o una frase memorabile pronunciata dalle vecchie glorie che non sia Chube, siamo a casa, dato che quella c'è persino nel trailer e chissà come mai. Dove sono le frasi come Che la forza sia con te, oppure Lei mi ha deluso per l'ultima volta, ammiraglio, o È una trappola! Star Wars certo non è solo frasi fatte, lightsaber e mondi incredibili, Ma almeno una di queste tre cose ce la volete lasciare. Il misticismo dello Jedi e della sua arma leggendaria, uno dei cardini del mito, viene totalmente accantonato. Chiunque può usarla senza allenarsi. Wow. Luke doveva essere un totale coglione per metterci due film per imparare a maneggiarla. E i fantastici mondialieni dove sono? E so benissimo che hanno voluto limitare l'uso della computer grafica, ma riciclare persino il pianeta sabbioso e quello innevato Non è semplicemente comodo. Hanno persino riproposto la scena del bar con la differenza che gli alieni sono generici E che il mantello di Lando a confronto è più bizzarro. La stessa mazcanata sembra un personaggio scartato da Inside Out. E poi quanto è bello il reset facile facile. Eh sì, abbiamo costruito di nuovo la morte nera senza che nessuno interferisse e abbiamo fatto esplodere la Repubblica. Tanto i burocrati non piacciono a nessuno. E noi che ci lamentiamo dell'abusivismo edilizio e delle scie chimiche. Qui devi far scoppiare 18 pianeti perché qualcuno si lamenti o sospetti il complotto. I nuovi personaggi invece sono copie annacquate degli originali. No, sul serio, a qualcuno importa di Poe Dameron? La versione sbiadita di Han Solo. Non so poi con che coraggio si possa difendere Kylo Ren. Sapevano di non poter riportare in vita Darth Vader e piuttosto che inventarsi un cattivo intrigante anche in quel caso hanno deciso di copiare. Se è anche solo remotamente curioso vedere un Darth Vader capriccioso e piagnone, secondo me di voluto c'è davvero poco. Ma sì, non spieghiamo perché è diventato un Sith e facciamogli dare due spadate al vento quando si arrabbia. Poi vediamo. E il tutto dovrebbe culminare nell'unico rischio che gli scengiatori si siano presi, uno specchietto per le lodole per fingere il colpo di scena intelligente e coraggioso. Sapevano semplicemente di non riuscire a rendere interessanti le new entry e hanno infilato il dramma spiccio facendo fuori Han Solo. Ma essendo lui fatto di gomma piuma non è neanche triste. Una morte è annunciata a metà film nel momento esatto in cui si scopre che lui è il padre di Kylo Ren. L'unico dubbio sarebbe potuto essere, forse avranno le palle di prendere una decisione interessante, di deviare la trama. Forse Kylo passerà dalla parte degli Jedi e non sarà tutto banale, noioso e stupido. Scherzo, non si erano ancora menati con le spade luccicose e non potevano non farlo, perciò non ci hanno lasciato neanche per un attimo la speranza che si trattasse di un film con delle idee. Un altro grosso problema è Rey, detta anche Anakin Femmina. Un personaggio che a tratti sembra avere un ritardo mentale e che pare quasi riesca a fare le cose solo grazie alla forza. Si comporta da bambina di 6 anni pur avendone 38. Che lei sia la protagonista mi è sembrata sempre più una forzatura scena dopo scena. Non ha veri conflitti interiori, non ha uno scopo, non c'è un vero motivo che legittimi il duello con Kylo Ren o che renda lo scontro finale coinvolgente. E poi non è un insulto che per rendere una donna protagonista l'abbiano mascolinizzata. Ma no, è bellissima, è una vera eroina. Per una volta che non ci sono donne mezze nude. Ok, quindi se ho capito bene la desesualizzazione è la nuova emancipazione, ricevuto. Ho preferito Finn, nonostante i troppi siparetti ridicoli che l'hanno coinvolto, perché alla fine dei conti è l'unico personaggio davvero nuovo tra tutti. A meno che non si inventino anche per lui una parentela e un destino già scritto. La verità è che potremmo continuare per ore a contare i difetti. Se Kylo aveva capito che Rey ha la forza, perché mai l'ha lasciato sorvegliata da un singolo stormtrooper? È sempre lui, come cavolo fa ad anticiparli nel bosco innevato? Lord Snoke è il solito cattivone stereotipato anni 90 che persino graficamente annoia. La scena di Han Solo che affronta i propri creditori è patetica. È davvero difficile trovare dei lati positivi. Passi l'essere un remake, ma la faccenda qui è molto più grave. Il problema non è solo raccontare di nuovo la stessa storia, ma raccontarla usando personaggi carismatici quanto un posacenere, buttando dalla finestra ciò che rendeva spettacolare Star Wars al di là della storia. C'è davvero poco divisivamente stupefacente e manca azione che tenga con il fiato sospeso. Non c'è Luke a sfidare la morte nera, ma un insipido tizio qualunque. Non ci sono sentimenti contrastanti, saggi maestri, misteriosi e spietati nemici. Niente che possa scatenare lotte senza tempo. Eh, ma se fossi appassionato della saga capiresti che perché è così bello. Ti farebbe tornare bambino e ti commuoveresti. No, so per esperienza che se fossi un fan sarei incazzato come una bestia, altro che... Diciamo che mi limito a trovarlo deprimente. Nessuna pietra miliare del cinema merita una fine tanto indecorosa. A presto!